Salve, sono Alessandro Pane, responsabile dei centri di ricerca e sviluppo Ericsson in Italia. È la prima volta che Ericsson partecipa alla giornata europea del ricercatore, quindi ringrazio il team Frascati per averci invitato e averci accolto nella manifestazione. Oggi mi trovo a Pagani, in provincia di Salerno, dove abbiamo una delle nostre sedi di ricerca e sviluppo in Italia. Sviluppiamo software, insieme alle altre sedi Pisa e Genova sviluppiamo anche tanto hardware e siamo leader della tecnologia nel campo delle telecomunicazioni mondiali. Perché è importante l'innovazione? Perché è quello, è il frutto, è la linfa che dà la possibilità a noi nell'industria, ma anche ai nuovi, ai ragazzi, agli studenti, di andare oltre a quello che è il normale cespito di sviluppo. Dobbiamo innovare, dobbiamo ricercare, dobbiamo trovare soluzioni nuove, in particolar modo in questo momento in cui il mondo estremamente digitalizzato ci dà la possibilità, con le nuove tecnologie e con le nuove reti di nuova generazione, ci dà la possibilità di sfruttare al massimo quelli che saranno le soluzioni e i servizi in telecomunicazione. Abbiamo aperto i nostri laboratori, quindi i ragazzi oggi lavoreranno con noi, staranno insieme a noi, toccheranno la tecnologia, faremo workshop, presentazioni, visiteranno i nostri laboratori e con questo la speranza che vengano stimolati per il loro prossimo passo di carriera, sia universitaria che, perché no, industriale. Siamo in Italia dal 1978, quindi la nostra ricerca di sviluppo è un asset importante nel palinsesto della grande industria italiana. Abbiamo sviluppato oltre 800 brevetti e questo è un dato importantissimo perché con i brevetti si ha la leadership tecnologica che è fondamentale per poter poi governare le soluzioni ed essere protagonisti nel mondo delle telecomunicazioni che ci interessa. Io ringrazio tutti, ringrazio veramente il team Frascati per averci accolto, siamo pronti già per la prossima edizione, gli studenti sono qui e stanno visitando i laboratori, ringrazio tutti e buona giornata. Io ringrazio tutti, ringrazio tutti, ringrazio tutti.